I lavoratori dell'Acqua Santa Croce sono ormai destinatari di licenziamento. Ad affermarlo è Franco Pescara, segretario regionale della FaiCISL, che richiama l'azienda e la Regione Abruzzo alle proprie responsabilità. Dopo le vicissitudini, il bando del 2015, la concessione provvisoria e definitiva, spiega a Pescara la Regione ha revocato il 4 ottobre 2015 la concessione alla società Santa Croce. Ad un anno di distanza però non c'è ancora traccia del nuovo bando, più e più volte annunciato. La FaiCISL sottolinea che gli obiettivi sindacali, ovvero mantenere in forza gli attuali 75 dipendenti al momento dell'esito della giudicazione e della concessione, sono definitivamente naufragati proprio l'8 settembre scorso con l'avvio della mobilità da parte dell'azienda. Secondo quanto messo nero su bianco dalla società, sottolinea Pescara, le motivazioni di questa decisione sono legate proprio alla mancata autorizzazione per elevare l'acqua per l'imbottigliamento dalle sorgenti di canestro. Ma non si comprende come, sottolinea la nota del sindacato, sebbene la Regione abbia negato la proroga, si continua ad imbottigliare, nonostante siano state avviate le procedure di licenziamento. La FaiCISL manifesta dunque forti dubbi sul futuro dei 75 dipendenti e chiede un chiarimento immediato da parte della Regione oltre all'emanazione del bando per l'imbottigliamento dell'acqua Santa Croce. Un'avvertenza, conclude Pescara, che si trascina ormai nel 2009 tra cassa integrazione, mobilità e contratti di solidarietà e al momento senza alcuna garanzia proprio per i lavoratori.